salve amici e benvenuti nel mio canale lolotube 75 e come sempre vi ricordo se non vi siete ancora iscritti di iscrivervi e mettere un bel like al video questi sono i video che mi hanno inquietato di più su tiktok questa è una bambina dove stanno succedendo delle cose molto strane con un'amica immaginaria alquanto terrificante amy 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 in questo video si vede una specie d'entità che si muove in un parcheggio Questo è molto curioso come video In una casa abbandonata succedono delle strane cose L'ho! 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 Ma poi... ...e're qualcosa da vicino ...opstaire ... 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 Non c'è la s**ta, non c'è la s**ta Non c'è la voglia di fare ginnastica Un bel giretto romantico in barca, ma... È il quanto curioso questo video Una passeggiata spaziale E come sempre lasciatemi un bel commento sotto E ditemi cosa vi pare di questi video Alquanto terrificanti che ho trovato su TikTok Grazie Grazie Grazie